Ciao a tutti e benvenuti! Vado ad estrarre una carta oracolo dall'oracolo degli spiriti animali per i segni d'acqua, quindi cancro, scorpione, pesci. Spirito della lontra, parlando di acqua, non sei mai solo. Andiamo a vedere che cosa vi dice questa carta. Ve lo leggo mentre vi faccio vedere l'immagine. Questo è il vostro messaggio. Come i veri amici, le lontre si occupano le une delle altre ed esprimono il loro affetto toccandosi. Gesti come tenersi per mano e abbracciare offrono la rassicurazione che in realtà non siamo mai soli e che siamo sempre apprezzati. Lo spirito della lontra è apparso per ricordarti di vivere e di esprimere l'amicizia in modo tangibile e fisico. Comunica con la voce, con le espressioni facciali, con i gesti e le azioni. Lascia che il tuo amore si esprima al di là delle parole che pronunci. Il messaggio dello spirito della lontra dice che la presenza ha importanza, quindi ricorda di essere totalmente presente con coloro che ti amano e ti stanno a cuore, aiutandoli a sentire l'amore, l'affetto e l'apprezzamento che provi nei loro confronti. Questo è il momento di celebrare l'amore che nella tua vita si esprime sotto forma di amicizia e di convivenza. Abbraccia qualcuno, toccagli il braccio o guardalo semplicemente negli occhi con intensità dicendogli, mi preoccupo, tu sei importante. Trova il tempo per l'amicizia. Lo spirito della lontra ti promette che nel momento in cui tendi la mano ricorderai che anche tu hai tante persone che ti amano e che si preoccupano per te. Non sei mai solo e sei sempre amato. Questo è il vostro messaggio per oggi. Un abbraccio.